Sono 124 i nuovi casi di coronavirus in Abruzzo nelle ultime 24 ore, dieta compresa tra 2 e 83 anni, su 1636 tamponi processati con un tasso di incidenza dei positivi del 7,6%. Quelli con età inferiore a 19 anni sono 24, di cui 12 in provincia dell'Aquila, 3 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 7 in provincia di Teramo. Più in generale l'aumento dei casi positivi è riferibile a 59 persone residenti o domiciliate in provincia dell'Aquila, 24 in provincia di Chieti, 25 in provincia di Pescara e 23 in provincia di Teramo. In calo di una unità i fuori regione scendono di 6 unità i positivi per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Sono complessivamente 30.398 i casi positivi al covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza, mentre il bilancio dei pazienti deceduti sale in totale a 989 registrando 9 nuovi casi, di età compresa tra 70 e 97 anni, 3 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Pescara. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 12.768 dimessi guariti, più 562 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 16.641, in calo di 447 unità. 678 pazienti, più 11 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 71 in terapia intensiva, più 2 rispetto a ieri, dovuti a 5 nuovi accessi, 0 dimissioni e 3 decessi, mentre gli altri 15.890, meno 460 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.